siamo davanti allo stadio uganeo qualcuno è già arrivato anzi più di qualcuno è già arrivato per tra i primissimi per questo concerto tra questi c'è il primo padovano ciao alla e come mai ti è venuta questa idea di venire così presto allo stadio lo vivi qualche giorno prima o se non stai a casa dal mio punto di vista quanti concerti hai visto fino adesso fino adesso ho visto dieci concerti di vasco il più bello lo so già ma dillo tu bello secondo me questo qua in casa per me che sono padovano per me che sono padovano è bello anche questo però modena è stata una cosa che spero si possa ripetere nuovamente perché è stato bellissimo la canzone più bella di vasco ce ne sono tante è difficile la mia canzone sbagli ravvicinati alzarsi verso il cielo e la più brutta di vasco non ce ne sono non ce ne sono grazie alla buongiorno mattina grazie 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 grazie